Ciao qui è Joe, di Seduzione Attrazione nel video di oggi rispondo ad una delle vostre domande che ci sono arrivate. La domanda è, ciao Joe, ecco la mia domanda. Come trovare continuamente la voglia di rimettersi in gioco dopo continui rifiuti? Io non sono un bel ragazzo, al massimo mi dicono che sono normale quando va bene. Dopo un incontro finisco frenzonato, dicendo che, se voglio, possiamo restare amici oppure addio. Quindi, così ricomincio da capo, ma ogni rifiuto è un peso che incide sull'autostima e va a colpire anche la mia sfera quotidiana. È un loop che non trovi l'uscita e a 34 anni la solitudine inizia a farmi paura, ok? Allora ragazzi, sapete che io, come mia politica, non racconto mai cazzate, ok? Quindi non ti indoverò la pillola né te la farò più cupa di quella che è. E' tanto per rimanere coerente con quello che ho sempre fatto. Partiamo con una premessa. Tu mi dici fondamentalmente io non sono un bel ragazzo, al massimo mi dicono che sono normale quando va bene. Sapete che io non vi ho mai nascosto il fatto che fondamentalmente più belli siete, meno difficoltà incontrerete. Il che non vuol dire che se siete belli questa roba è facile tutta a rose e fiori, ma ovviamente significa che avete o dovreste avere, quantomeno inizialmente, o a parità di skills con una persona meno attraente, un tasso di successo superiore, mettiamola così. Ora, questo significa che se tu non hai la carta dell'essere attraente a tuo vantaggio, devi sviluppare e ampliare altre aree, cioè diventare tecnicamente più capace, diventare estremamente espressivo con la voce e con la faccia, sicuramente andare in palestra, in ogni caso curare il tuo look, curare la tua assertività, migliorare quello che è il tuo inner game e sistema di credenze, massimizzare al massimo quello che è il tuo funnel, ne parlo in Insider Mind di funnel e per di più in Insider Mind parlo di tutti quelli che sono i dati su cui tu devi lavorare nel tuo, per il tuo valore uomo e quindi ti lascio il link in descrizione se vuoi approfondire. Quindi tu devi fare un lavoro che sia il più olistico possibile e in ogni caso ci sarà sempre una componente di volume in quelli che sono i successi che per te dovranno accadere, anche se in questo momento non stanno accadendo. Ora però in realtà ti voglio far notare una cosa, tu mi dici dopo un incontro finisco frenzonato dicendo che se voglio possiamo restare amici oppure addio. Ora, noi da un lato dobbiamo sicuramente lavorare su quelle che sono le caratteristiche che anche se non sei attraente fisicamente ti rendono quantomeno un uomo attraente. Non so se noti la differenza, sembra lieve ma è sostanziale, mettiamola così, ok? Con questo ripeto non vi sto raccontando la favoletta che se voi stebre il pit e la vostra spalla, mettiamola così, e Mr. Bean siete ad armi pari, non è così. Sì, però, nonostante ognuno di noi lavora con quello su cui può lavorare, massimizza tutto quello che può massimizzare, ok? In tutti i modi possibili e immaginabili, nello specifico ti rimando a InsiderMind. Però, ad un certo punto della tua domanda, InsiderMind link in descrizione, a un certo punto della tua domanda tu mi dici dopo un incontro finisco frenzonato. Ora, signori, io quello che voglio che voi vi stampiate in testa è che se una ragazza esce con voi, almeno in una zona della sua testa, così come quando voi andate ad un appuntamento, sperate che le cose vadano bene, dove dico bene dico sesso. Poi, anche di più, per carità, se questo volete ci mancherebbe altro, però il sesso è chiaramente il primo step, parliamoci chiaro. Le ragazze sperano la stessa cosa, almeno in un angolo della loro testa, se accettano di uscire con voi, almeno un minimo di quell'idea ce l'hanno. Poi, è vostro compito, ovviamente, non mandare le cose a puttane, e anche su questo io sono molto chiaro con voi. Questo non vuol dire che tutte le volte voi potete avere un range di successo del 100% sui vostri appuntamenti, magari, nessuno ce l'ha. Però, a livello statistico dovete avere successo, non potete essere sempre frenzonati. Se questo succede, è una problematica di tipo tecnico, di gestione dell'appuntamento e anche di conoscenza di tutte quelle variabili, della soluzione ingredienti, della soluzione, se così li vuoi considerare, che tu devi imparare a far più tuoi, essere più esperto in questi ingredienti. In Insider Mind, che ti ho già indicato, in realtà, in uno dei bonus ti spiego come mescolare questi ingredienti. In tecniche di soluzione avanzate, invece, ti lascio il link in descrizione anche a questo, ti spiego come gestire l'appuntamento. E questo può essere un primo passo per iniziare ad avere più successi, ok? Cioè, il fatto di riuscire a mescolare meglio quelli che sono gli ingredienti della soluzione e avere una struttura che ti permetta di non fare delle operazioni sbagliate, che quindi ti fanno finire in friendzone, anche quando da parte della ragazza è stato esplicitato l'interesse, uscendo con te, è sicuramente un primo passo. Allo stesso tempo, nel tuo caso, francamente io ritengo che ci sia anche un lavoro di inner game da fare, nel senso che la prima cosa che ti preoccupi di dirmi, io non sono un bel ragazzo, e che questo sia reale o meno, in un momento di questo tipo, è un pensiero che non ti aiuta a avere, fermo l'esterno che tu devi massimezzare la tua estetica il più possibile, però è un pensiero che in questo momento non ti aiuta a avere come tuo. O quantomeno devi minimizzare l'intensità di questo pensiero, mettiamola così. Non solo, mi dici anche, così ricomincio da capo, ma ogni rifiuto è un peso che incide sull'autostima, e va a colpire la mia sfera quotidiana. Questo è un chiaro problema di inner game, ma non solo un problema di inner game. Quello che tu vuoi capire è che, nonostante io ti stia suggerendo di fare un lavoro di inner game, oltre che di outer game, e di cura della tua persona a 365 gradi, una regola del buon inner game è non avere aspettative che siano realistiche. Cioè, tu mi stai dicendo che fondamentalmente stai appena cominciando, e quindi tu stai incontrando delle problematiche che sono assolutamente normali. E per di più, è normale che tu venga rifiutato tante volte quando impari questa roba, soprattutto se è arrivato a 34 anni senza averla imparata, il che vuol dire che viene da una vita in successo. Purtroppo, signori, io non ve la voglio stare a raccontare, non è che questa è una bacchetta magica, ma se voi aveste 16 anni e imparaste questa roba, sarebbe un qualcosa di statisticamente più veloce a fare, perché la vostra personalità e i vostri insuccessi a lungo termine non sono così ben formati, ma se voi imparate a 34 anni, che è un'età insomma abbastanza evoluta, per così dire, capite che voi dovete remare contro una vita di insuccessi o di scarsi successi, quindi c'è da farsi il culo per uscire da questa situazione, da queste sabbie mobili. Però oltre a farsi il culo, è necessario che prima di tutto ci sia un riconoscimento di quelli che sono i successi, cioè tu sei arrivato da un punto in cui molto probabilmente non potevi approcciare una ragazza freddo, a un punto in cui quantomeno riesci a portarle ad un appuntamento, che è un primo step all'interno di quello che è il funnel, di cui ti parlo in Insider Mind, ok? Allo stesso tempo devi capire che devi proprio internaizzare e realizzare che purtroppo, cioè purtroppo è così, non è che purtroppo per fortuna, è semplicemente la realtà di questa cosa, soprattutto a inizio, e sempre in realtà, i no sono più che i sì, ma il problema è che quando tu inizi ad avere delle referenze psicologiche positive, quantomeno inizi a internaizzare, ok ci sono i no ma ci sono anche i sì, quindi ingoio la pillola amara per arrivare a quelli che sono i successi, in questo momento tu purtroppo stai solo ingoiando la pillola amare, quindi capisco che è una situazione nella quale non è semplicissimo trovarsi, però al tempo stesso è importante signori che voi abbiate aspettative realistiche, perché soprattutto all'inizio, soprattutto se non si ha una serie di esperienze positive in quella che è la vostra vita, e soprattutto se la vostra autostima è bassa e sei in una situazione in cui sei un po' un buco nero, perché mi dici è un loop che va a colpire la mia sfera quotidiana, i risultati che tu stai sperimentando, anche in assenza di skills adeguate, sono assolutamente normali, e perché ti sto dicendo questo? Perché mettiamo che io volessi investire il mio denaro, sapendo poco o nulla di investimenti, a parte il fatto che sarebbe una pazzia, ma capisci bene che butterei i miei soldi, ora fortunatamente nella seduzione di soldi se ne buttano pochi, se non quelli dell'aperitivo, del drink, quello che è insomma, dell'entrata in discoteca, insomma, ci siamo capiti, però, ciò nonostante, in nessuna skill, se io ti ho fatto l'esempio di investire i soldi, ma potrebbe essere la palestra, potrebbe essere l'imparare una lingua, all'inizio è difficoltoso, è stressante, è emotivamente stressante, ma purtroppo, io su questo con voi devo essere chiaro, nella seduzione, è maggiormente emotivamente stressante, perché vi costringe ad andare contro le vostre paure, ma anche e soprattutto a ricevere dei feedback crudi, su quello che in questo momento voi percepite come il vostro valore personale, ora c'è un problema però, essendo che le vostre skills non sono sufficienti, per esempio e tu in questo momento, per andare a far succedere qualcosa con le ragazze con cui tu vai agli appuntamenti, hai una visione distorta di quello che è il tuo valore personale, perché non solo butti nel cesso, butti nel cesso tra virgolette ragazze che non sono lavorabili, ma butti anche nel cesso ragazze che sono lavorabili, e quindi in realtà ti sembra che vada tutto male, quando in realtà sei solo esposto a quella che è la scalata della montagna, come si dice in sviluppo personale, del processo di apprendimento, quindi io capisco necessariamente quella che è la tua situazione, anche emotiva, però la pura verità è che da un lato stai andando ad appuntamenti quanto meno sei all'inizio della buona strada, d'altro devi capire che specie alla tua età di 34 anni, tu devi impegnarti in quest'area in maniera molto più forzosa, in tutte quelle che sono le aree che ti ho indicato, cioè area tecnica, inner game e cura il tuo valore di uomo a 365 gradi, ok? Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.